amici di xenios ciao sono un marcello personal coach e oggi vi parlerò dei nostri manubri fitness 2.0 sono una versione rinnovata dei nostri classici manubri fitness con un design migliorato senza intaccarne la loro funzionalità i manubri fitness 2.0 sono in neoprene che è un materiale che a differenza del classico vinile è innanzitutto più resistente e soprattutto non è liscio in questa maniera va a garantire una presa più salda e sicura in questa maniera non ci sarà così il rischio del classico scivolamento soprattutto quando si suda tanto durante i vostri allenamenti io li utilizzo tantissimo con i miei clienti vi posso assicurare che sono molto molto felici inoltre non ci sarà il problema del rovinamento del pavimento quando vengono appoggiati a terra un'altra cosa molto importante da dire è che i manubri fitness 2.0 hanno una forma studiata per dare il massimo comfort infatti la parte della testa dei manubri è leggermente squadrata così da renderne impossibile il rotolamento in questa maniera anche quando andrete ad eseguire dei esercizi particolari come magari dei push up sopra di essi oppure il classico renegade in plank non ci saranno problemi e la sicurezza sarà massima e soprattutto garantita la gamma dei manubri fitness 2.0 va da 1 fino a 10 kg e sono tutti suddivisi in colore il colore va chiaramente in base al carico come vedete questi per esempio sono da 4 da 5 kg 6 kg e 8 kg e sono tutti di colori differenti che dire io aggiungo che se avete bisogno eventualmente di una rastrelliera sul nostro sito potrete trovare anch'essa è molto comoda e potrete così posizionare i vostri manubri nella maniera più ordinata possibile da marcello è tutto dai nostri manubri fitness 2.0 è tutto provate subito andate sul nostro sito e divertitevi ci vediamo alla prossima ciao